Sabato 21 maggio, nei giorni della solenne festa primaverile di Santa Margherita, il cardinale Ernest Simoni, fortemente legato alla famiglia francescana, è arrivato a Cortona. Il cardinale è conosciuto in tutto il mondo quale testimone di pace e perdono per i suoi 28 anni di ingiusta prigionia e lavori forzati nei campi di concentramento, nelle miniere e nelle fogne di scutari, inflitti dal dittatore Enverogia che proclamò il paese delle Aquile primo stato ateo al mondo. Padre Ernest è giunto al santuario di Santa Margherita dove è stato accolto sul sagrato dal rettore del santuario padre Giancarlo Rosati e dai confratelli francescani ed ha poi assistito tenendo l'omelia alla solenne Santa Messa Vespertina, presieduta da Monsignor Benvenuto Italo Castellani, arcivescovo emerito di Lucca. Prima della celebrazione eucaristica per le vie di Cortona ha avuto luogo il corteo storico dei quartieri che solennemente ha portato al santuario una delle chiavi dell'urna della Santa custodita nel palazzo comunale. La comunità cortonese ha accolto con grande entusiasmo la visita del cardinale Ernest Simoni, ha dichiarato il sindaco Luciano Meoni. È significativo che egli abbia scelto di partecipare alla celebrazione religiosa a Santa Margherita, testimoniando il suo attaccamento alla figura della Santa Patrona di Cortona e ai valori che ne hanno ispirato l'azione.